Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della diga di Monte Cotugno a Senise, il più grande invaso in terra abbattuta d'Europa. Si tratta di interventi programmati da tempo e che dovrebbero terminare per la fine del mese. Interessano soprattutto il manto del muro di sbarramento dell'invaso, composto nell'ultimo strato da materiale bituminoso che proprio per la sua particolare composizione richiede interventi specializzati perché soprattutto nei punti in cui si alternano il bagnato e l'asciutto si creano con il tempo piccoli smottamenti, ragion per cui proprio per consentire l'avvio dei lavori è stato monitorato costantemente il livello dell'acqua contenuto nella diga che nonostante le piogge e le nevicate degli ultimi mesi oggi contiene 261 milioni di metri cubi di acqua, 151 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un livello che lo stesso ente di irrigazione che gestisce l'invaso ha controllato negli ultimi mesi, tanto che si avvale indubbiamente uno spettacolo suggestivo rivedere il fiume Sinni scorrere abbondante verso il mare, a molti è parso molto strano che dallo scorso autunno la diga non raggiungesse i livelli più alti.